La Lega Pro ha presentato ufficialmente la nuova stagione 2021 con il lancio di Artemio, nuovo pallone della Serie C, che stando ai produttori dell'RA unisce in maniera impeccabile identità e tecnicità. Artemio è composto da 14 pannelli, di cui 6 a forma romboidale, che richiamano il celebre marchio di RA. Una struttura distintiva che non solo conferisce particolarità all'aspetto, ma migliora anche le prestazioni sul campo. La conformazione termosaldata dei pannelli è composta da un nucleo multistrato, che include poi uno strato di schiuma poliuletanica a bassa densità. La superficie esterna è testata per tutte le condizioni climatiche. La certificazione FIFA Quality Pro garantisce poi la qualità e la capacità di soddisfare gli standard più elevati del calcio professionistico. La grafica infine si ispira alle maglie degli anni 90, rivisitata in modo moderno nei colori fucsia e ciano. Andiamo a Forte dei Marmi. Al secondo anno in Biancazzurro, il centrale difensivo classe 2002 rimane a Forte dei Marmi per proseguire il proprio percorso di crescita e dare continuità ai numeri che ha già visto conseguire la scorsa stagione. Come protagonista, con oltre 30 presenze e 4 reti all'attivo, stiamo parlando del difensore Tommaso Masi. Ci spostiamo a Castelnuovo, mercoledì 28, il passaggio di consegne e la nomina del nuovo direttivo. Cambio della guardia al timone del Castelnuovo che a breve avrà una nuova proprietà. L'annuncio era nell'aria dopo un mese di incertezze. È arrivata adesso anche l'ufficialità. La lunga trattativa che ha portato fino al closing è infatti giunta a conclusione. Nella giornata di mercoledì, si legge in una nota della società gialloblu, avverrà il passaggio di consegne tra il vecchio presidente, i vecchi consiglieri e la nuova proprietà. Al tempo stesso, solo allora, verranno ufficializzati i nominativi del nuovo consiglio direttivo. Si tratta di una cordata di imprenditori e personaggi locali, fra cui alcuni che in passato hanno ricoperto cariche importanti nel mondo del calcio garfagnino e non solo. L'attuale compagine societaria si dovrà occupare anche con l'amministrazione comunale della riqualificazione già iniziata dello Stadio Nardini. Il Castelnuovo, sotto la guida del presidentissimo Marchini e la regia di Paolo Giovannini, ha militato per nove anni nel calcio professionistico e la società nel 2022 ha festeggiato il centenario. Veniamo al Beach Soccer, manita alla San Benedettese e qualificazione alla Final Four Scudetto. La formazione Under 20 della Farmae a Via Reggio potrà provare a conquistare il terzo scudetto consecutivo sulla sabbia di casa. Grazie al successo sulla San Benedettese 5 a 1, i bianconeri chiudono infatti al secondo posto il girone A del campionato di categoria con nove punti e staccano il pass per la Final Four. In chiusura all'atletica, a Firenze i 200 sono monopolio Virtus. Gli atleti nigeriani della Virtus.lucca brillano nella velocità. Il meeting regionale che si è svolto allo Stadio Ridolfi di Firenze Emanuele Oieli vince 200 metri in 20 secondi e 96 sulla stessa distanza in campo femminile si è imposta Iabuku Balikis in 24 secondi e 13. Con questa notizia chiudiamo la nostra pagina sportiva. Una breve pausa e subito dopo la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Grazie.